Mi piace questa modalità lettura della nonna, ok? Che farà piacere a tutti questi vampiri di informazioni che sono presenti nel mondo online e che guardano Music Business Italia. Oggi parliamo delle fonti del paragrafo 3 del capitolo. Sarà uno dei primi capitoli? Ma, vabbè, non lo so, ok? Non me lo ricordo e non ho voglia di andarlo a vedere. Ma vi parliamo delle fonti di monetizzazione. Eh, eh, tema incredibile. Allora, ovviamente ci sono fonti di monetizzazione attive, passive, dirette e indirette. O ibride, ok? Mi sembrava doveroso parlare delle fonti di ricavo e delle varie differenze per iniziare così a capire non solo i canali di irrigazione del mercato musicale. I canali di irrigazione è un termine che avevo rubato al grande Alfredo, ok? Che è un produttore musicale pazzo furioso. Ma le caratteristiche intrinseche dei diversi modelli di ricavo. Iniziamo quindi con il fare chiarezza sulle fonti attive, sulle fonti passive, sulle fonti ibride. Apriremo anche una parentesi per capire il rapporto e la differenza tra il significato della derivazione diretti, quindi fonti di ricavo diretti, dirette e indirette, ok? Ora, perché come vedete all'interno di questi dizionari, dove non parliamo di come fare grandi milioni di visualizzazioni su Spotify, ma piuttosto vi parliamo di come funzionano determinati modelli, che sembra molto più utile, molto più furbo, ok? Molto più furbo perché così potete raggirare il sistema, ok? Perché è importante parlare di questi aspetti, no? Perché? Perché se parliamo di sostenibilità progettuale, se parliamo a persone che vogliono fare musica di mestiere, se parliamo a persone che vogliono far parte, vogliono capire come entrare in un mercato, bene, ci sono degli aspetti da tenere in considerazione. Tra cui, ad esempio, le fonti di ricavo, ok? Cosa di cui poche persone parlano, ok? Allora, con fonte di ricavo attiva, si intende una fonte di ricavo che viene generata attivamente attraverso una datazione e un relativo accordo finito, ok? Accordo finito, tra virgolette, ma capiremo. Ciò significa anche, esposto in modo più semplice terra a terra, un'entrata economica stabilita dal mero rapporto temporale, tempo-denaro, ok? Esempio, un'ora di lezione di strumento. Il rapporto e il sistema da adottare su come identificare il valore orario è spiegato dettagliatamente all'interno del DDL, quindi del dizionario del lavoro. Tanti hanno il problema di dire, ma quanto vale un'ora di lezione? Eh, devi calcolarlo, c'è un modo per calcolarlo, ok? Che non è tema di questo dizionario. Con fonte di ricavo passiva, si intende una fonte di ricavo indipendente dal rapporto temporale che può apprezzarsi o deteriorarsi nel tempo. L'unico esempio che mi veniva sono gli investimenti azionari, cioè voi mettete il denaro che lavora per generare altro denaro, ok? Con fonte di ricavo ibrida, si intende una fonte che ci richiede attivamente un dato tempo per la costruzione e realizzazione del prodotto, ma che ci consente di monetizzare da quel prodotto in modo ripetuto nel tempo, senza necessità di doverci sottoporre sempre il rapporto tempo-denaro, quindi di rompere un po' questo schema, ok? Che è un altro aspetto su cui bisogna lavorare. Esempio, un'ora di lezione musicale registrata, ok? Questo contenuto che stai fruendo, perché ovviamente quello che voi andrete a vedere sono 14 ore di io e Antonio che vi facciamo le pippe, ok? Su tutta questa serie di argomenti, di cui questi sono solo piccoli estratti, ok? E fondamentalmente tutte le fonti di revenue di questo settore. Ad esempio, una fonte ibrida è sicuramente il catalogo musicale, cioè noi costruiamo un catalogo, possiamo generare delle rendite indirette, ma comunque è ibrido, perché? Perché per fare quel catalogo abbiamo dovuto spendere tempo ed energie e denaro per costruire quel catalogo, ok? Tutte le fonti di revenue di questo settore, ovviamente che richiedono il presupposto dell'esistenza di un veicolo musicale, prodotto artistico, le vedremo nei dettagli. Ora, qua andiamo nelle definizioni, ok? Delle fonti di ricavo, con una bella esclusione di responsabilità, perché non sono un avvocato, tantomeno un discografico. Voglio trasmettervi alcuni concetti complessi in forma estremamente digeribile per come l'ho assimilata nel corso delle mie esperienze musicali e discografiche, ok? Ho lavorato tanti anni con produttori indipendenti e alcuni di loro avevano etichette discografiche indipendenti, ho visto anche etichette discografiche indipendenti essere più grosse, ok? Di alcune major, che tanto vengono etichettate come il punto di arrivo di tutti gli artisti, bene, ok? Quindi vi parlo di esperienze personali. Quindi qua andiamo a vedere nei dettagli Live, vendita fisica, deal contract, license, synchronization, diritti connessi, royalty, brand sponsorship, partnership e servizi, ok? Ampliando poi ovviamente il ragionamento. Ora, perché queste tematiche sono fondamentali per chi vuole fare musica di mestiere? Beh, penso che la risposta ce l'avete voi, cioè le competenze sono fondamentali, il come veicolarle e soprattutto dove veicolarle, in quale segmento, in quale magari segmento possiamo anche fare un discorso inverso. La cosa figa, per esempio, del sistema esatto, secondo me è esattamente questa, cioè che noi possiamo andare a anche fare un ragionamento inverso, cioè capire come certi segmenti di mercato funzionano, fare match con le nostre competenze o magari andare a costruirle proprio ex novo per andare a infilarci all'interno di una settorialità specifica, ok? Ovviamente questo è, dipende da voi, dipende dalla vostra storia, dipende dalla vostra competenze, dipende dalle vostre esperienze pregresse, dipende dal vostro storico, ok? Dipende da quanto siete disposti a sacrificarvi, perché anche qua non vorrei che vi passasse l'idea che lavorare in questo settore è un lavoro, quindi come qualsiasi lavoro ci vuole impegno, ci vogliono sacrifici economici, ci vuole una certa testa, ci vuole un certo tipo di mentalità, ci vuole un certo tipo di attenzione a determinate procedure, bisogna fare attenzione ai rischi che si corrono, ok? Perché questo è uno di quei settori che l'entrata è molto, tra virgolette, semplice, ok? Ma la facilità di incappare in errori che costano molto caro è molto, 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 molto alta. Quindi vi ricordo che il mese, per tutto il mese di agosto, voi avete la possibilità di accedere al sistema esatto, al dizionario del lavoro musicale e al dizionario dell'autopromozione, alla registrazione dell'evento di Milano, alla registrazione dell'evento di Lugano e alle bellissime, ok, copie, ad un prezzo speciale. Perché dovreste farlo? Se vi siete rotti le palle di fare una vita di M dal punto di vista progettuale, dal punto di vista lavorativo, per cui questi sono percorsi che io consiglio a tutte quelle persone che fanno dei lavori spesso e volentieri sottopagati e che voi sapete di essere, di essere, in cui sapete di essere sottopagati, ma non avete il coraggio o magari non avete i metodi, i mezzi per poter capire come poter andare a cambiare questa situazione. Io questo ve lo dico per profonda esperienza personale, perché sono passato anch'io dal lavorare nelle scuole a cifre assurde, dal fare i concerti pagati una miseria, dal presentarmi o fare lavoro in studio che potevano essere pagati il triplo, ma in realtà il problema era che non erano pagati tanto per un mio problema, perché non si è capaci tante volte di chiedere rispetto al valore che voi avete. Quindi questi sono, è un percorso che consiglio a chi vuole cambiare questo tipo di situazione, e che magari non ne può più. Perché ve lo dico con estrema sincerità, perché questi sono tutti schemi e informazioni che sono state digerite, testate, provate, errori, dove parliamo anche di tanti fallimenti all'interno dei nostri percorsi, dei nostri dizionari, e di tutto quello che noi facciamo con le persone. Quindi, ripeto, non fatevi scappare questa opportunità, è sempre ovviamente in forma limitata, ad un prezzo, a mio parere, inarrivabile. Cioè, cosa vuol dire? Che meno di così veramente era, si trasformava in una sorta di furto. E io questo, ripeto, lo dico con estrema sincerità, lo dico con tutto il bene del mondo, perché il nostro obiettivo è quello di migliorare la condizione di artisti e musicisti. Al contrario, questo non lo faremo, e ci faremo i fattacci nostri, ok? E noi invece vedrete, nel corso del tempo, dateci tempo, chi di voi non crede in noi, ovviamente avrà modo di richiedersi, ma noi cambieremo, ok, il sistema, il modo di fare musica, e il modo di, soprattutto, di lavorare in questo settore di tante persone, che seguono modelli ormai morti. Arrivederci a tutti, e buon mare, buon ciringhito, ovunque voi siate, buone vacanze, studiate. Ah, trovate i link in descrizione, se volete potete scriverci una mail, lo davo per scontato.